Che anno è stato? Beh, è stato intanto un anno di giustizio mandato. Sono stati sette mesi di intensa attività, abbiamo seminato tanto e realizzato qualche cosa. Non voglio dire tanto, ma io dico abbastanza per sette mesi. 500 borse lavoro finanziate, riorganizzazione della macchina amministrativa, 200 eventi messi in piedi dall'assessorato alla cultura e poi priorità ai due settori più importanti, fra le deleghe in capo alla provincia, viabilità e edilizia scolastica, oltre 4 milioni e mezzo di euro di interventi attuati sugli istituti superiori, ed è stato un nuovo anno di emergenze per la provincia dell'Aquila, da quella legata all'alluvione agli strascichi dell'emergenza sisma, che sta richiedendo una imponente opera di messa in sicurezza sismica delle scuole. Sul fronte dei rifiuti, quella dell'Aquila è l'unica provincia abruzzese ad aver avviato un percorso virtuoso e che vanta l'unico impianto di pretrattamento attualmente funzionante in regione. Il bilancio positivo dei primi mesi di amministrazione di centrodestra, tracciato stamani dal presidente Antonio Del Corvo e dall'intera giunta, tiene conto anche della sostanzialmente positiva eredità lasciata dalla precedente amministrazione. La provincia sostanzialmente dal punto di vista finanziario era sana, abbiamo trovato tante risorse non spese, basti pensare a quelle sulla viabilità, nella cartellina di oggi mettiamo un dettaglio di tutte le risorse, sono trasferimenti che la regione aveva operato a favore della provincia per il triennio 2008-2010, sulle quali stiamo accelerando, quindi dal punto di vista finanziario non ci possiamo lamentare. Dal punto di vista attuativo c'è da lamentarsi perché sono cose che potevano essere state già fatte nel passato. Restando nel centrodestra, stamani infuocata conferenza stampa delle opposizioni al Comune dell'Aquila contro l'amministrazione Cialente. Questa è un'amministrazione che è paralizzata, è ferma, non ha idee, non ha programmi. Ormai questa è un'amministrazione che sta in campagna elettorale, non sui problemi ma sta in campagna elettorale contro qualcuno, ora contro il governo, ora contro la regione, ora contro qualche iniziativa che va contro le loro linee. In realtà Lolli, Cialente e Pezzopane ormai hanno deciso di aprire la campagna elettorale, però un po' liticheranno probabilmente anche per quelli che dovranno essere i ruoli tra di loro.